Benvenuti in questo nuovo video sono Thecon94 e oggi siamo tornati su un nuovo epico leggendario spacchettamento sul League of Legends vedete che abbiamo anche un bel po di roba da aprire nessun forziere per sfortuni però abbiamo 240 gettoni prova e tra questo andremo ad aprire un'altra sfera accademia che dopo andremo a vedere che cosa conterrà dentro e vi dico perché non la sfera msi e la sfera accademia che sicuramente molti di voi chi avrà aperto questo sa di che cosa andremo a parlare quindi forgiamo subito la nostra sfera accademia e la mettiamo qua allora apriamo prima di tutto la nostra capsula campione per vedere un po' chi troviamo dentro quiz fate ce l'ho già le blank ce l'ho già allora apriremo prima la sfera msi 2019 che ormai è già finito già da un po' però volevo prendere i miei punti per farli bene e poi andiamo a prendere la nostra sfera accademia allora msi sfera 2019 apri per rivelare un frammento aspetto casuale garantito con una probabilità di ottenere bonus come aspetto esport permanente non posseduto una gemma o un aspetto mitico permanente percentuale ottenimento di gemma aspetto permanente mitico moltiplicata per 1,5 segno chi mi segue sa che io ne ho portati un bel po' di spacchettamenti sappiate che io adesso quando aprirò questo o troverò una bella skin io non ho mai trovato skin permanenti ho trovato skin leggendari così ma permanenti io no non ho mai trovato ho trovato delle gemme infatti ne ho trovate 5 vedete qua che ne ho trovate 5 quindi adesso noi andremo ad aprire e vedremo un po' che cosa troviamo in questa mitica sfera del 12 19 possiamo trovare anche una skin esport non posseduta quindi adesso vedremo un po' apriamo e vediamo un po' che skin troviamo guarda io io adesso mi aspetto di tutto è mi aspetto proprio di tutto gare dei regni in guerra o io non ho mai trovato una skin di gare ho detto prima o poi la troverò fa vedere dove sei amico no l'ho perso che è successo gare e gi 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 g eccolo gare dei regni in guerra bellissimo adesso andremo ad aprire questa chissà che cosa troviamo dentro, sfera accademia di battaglia 2019, apri per rivelare un frammento aspetto casuale garantito con la probabilità di ottenere bonus come una borsa accademia di battaglia, una gemma un aspetto mitico permanente, procettazione di ottenimento di gemma aspetto mitico permanente moltiplicata per 1,5 il discorsino allora, io adesso se non trovo qualcosa di fenomenale che mi stanno partendo nelle cuffie, perché questa qua, questa mi parte sempre, non lo so capire, di solito va sempre di là al bar, prendersi caffè, allora io adesso, cioè, fammi fammi trovare qualcosa di bello, per favore fammi trovare qualcosa di sensazionale, qualcosa che così posso mettere dentro qualcosa di bello, dai sensazionale, dai, no, da adesso c'è qualcosa di epico, qualcosa di leggendario, qualcosa di mitico, qualcosa di permanente apriamo amivia nero gelo ma te stai scherzando ma te stai scherzando epica leggendario frammento epico abbiamo l'ultima sfera accademia di battaglia per favore donaci qualcos'altro di veramente sensazionale qualcosa di bello qualcosa di veramente stupefacente qualcosa che allora io adesso chiedo dagli occhi mettiamo qua adesso io sicuramente dalle cuffie sentirò che cos'è quindi adesso per favore fammi trovare qualcosa di di bello qualcosa di sensazionale qualcosa di leggendario di mitico una cosa che io non ho mai trovato 3 2 sto registrando 1 non ho sentito qualcosa di epico ma io ce l'ho già no no riot questa non me la dovevi fare questa non me la dovevi fare potevi fare tutto quello che volevi ma questa proprio questa me la leggo al dito vediamo un po' cosa troviamo qua perché anche l'altra volta vi ho trovato delle skin belle una skin che non ho per favore eh eh cari ma cosa ma stai scherzando eh cari marcad noo a che noo questa qua è una skin che mi piaceva avere noo che bello no vada ma io 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 non ci credo no io non ci voglio credere no 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 tranne perché per quella cagata che mi ha fatto lì sta sfera qua però almeno ho trovato una skin bella sensazionale mitica vabbè abbiamo trovato Garen alba cosmica io non me la cioè ma stai ma è una skin che c'ho già perché mi dà una skin che c'ho già non ha senso boh vabbè contento te eh 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 signori spero che questo piccolo mini spacchettamento vi sia piaciuto abbiamo trovato una skin bella sia Garen Anivia e e Karim bellissima skin quindi signori spero che questo video vi sia piaciuto se volete vedere altri video come questo lasciatevi lasciate un mi piace un commento qua sotto e iscrivetevi molti al canale passate anche tra i miei vari profili social Twitter Facebook e Instagram e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi spero che voi abbiate voluto più fortuna in questo piccolo spacchettamento spero proprio guardate spero proprio grazie a tutti grazie a tutti